Salve a tutti, sono un attore, regista, docente di teatro, recitazione. Sono qui per presentarvi due interessanti corsi per corsi, lettura espressiva ed elementi di edizione. Affronteremo vari argomenti, tra cui sei elementi della lettura espressiva, elementi di edizione. L'edizione fa parte dell'italiano, quindi apprendere bene alcune tecniche che fanno parte dell'edizione è fondamentale per poter eliminare o ridurre quantomeno le inflessioni di altari, per esempio. Noi riusciamo a leggere bene quando riusciamo a capire bene ciò che stiamo leggendo, ad alta voce. Il corso è destinato a chiunque, anche ad amatori, a persone che semplicemente vogliono imparare a leggere meglio, ma tutte le specifiche le potrete trovare a questo link su questo portale. Vi aspetto qui. Ciao!